ben ritrovati di nuovo su review in you scusate la mia voce ma sono un attimino raffreddato allora oggi andiamo a vedere insieme questo acciarino ideale per chi va a fare trekking campeggio e si vuole portare indietro comunque qualcosa che possa accendere il fuoco in caso appunto un accendino tradizionale dei fiammiferi non vadano bene parliamo di un acciarino comprato al prezzo di 9 euro su amazon l'azienda le campore moderne link in descrizione come sempre che arriva all'interno di una confezione di plastica contenente questo fogliettino illustrativo in francese ma andrò a spiegarvi come funziona questo sacchettino di velluto all'interno sembra anche quasi in rivestito di plastica quindi forse anche contro l'umidità e poi l'acciarino in sé l'acciarino composto allora essenzialmente a questa parte in legno potete vedere il marchio dell'azienda la parte dove si va a sfregare la lama e la parte metallica in sé vedete che anche qua c'è un rigalo che arriva fino a 5 centimetri di qua potete vedere anche l'altra parte e ci tengo subito a precisare che se vedete che appunto consumato non è perché arriva così ma perché prima di fare questa recensione ovviamente sono andato a testarlo o meglio a accendere il fuoco fare quindi delle scintille quindi istruzioni per l'uso prima di tutto dovete vi arriverà tutto il coperto da uno strato nero quindi vedete adesso che ci sono delle parti comunque si vede che ci sono delle strisce metalliche ecco questa qua è la pietra fuocaia ed è rivestita tutto interamente di un film protettivo e nero questo cosa cosa significa che se voi andate all'inizio a sfregare non succederà proprio niente quindi come dice anche il fogliotto illustrativo dovete andare a rimuovere io l'ho fatto con questa parte di lama appunto dovete andare a grattare via questo strato protettivo se no appunto la scintilla non non si creerà infatti all'inizio anch'io ero lì che senza leggere liberatore e istruzioni facevo così vedevo che non c'era scintilla ho detto come è possibile poi sono andato a leggere il fogliotto illustrativo e c'è proprio scritto che con questa parte della della lama dovete andare a grattare via il questo film protettivo nero una volta che è così appunto che si vede quindi la parte al di sotto color argento diciamo quando andate a sfregare la scintilla si creerà e potete vederlo anche adesso in queste immagini si può appunto creare tramite questa parte quindi andando a fare un movimento con la parte superiore della lama oppure si può andare anche creare la scintilla io preferisco in questo modo con la parte appunto laterale dell'acciarino la scintilla è assicurata l'unica cosa che appunto come vedete dalle immagini la lama poi questo pezzo di lama si usura un po cioè nel senso quando andate a grattare via o comunque ad accendere si creano delle diciamo il disegno nero la vernice va un po' via questo però è stato anche una mia colpa perché sono andato a grattare il film protettivo con questa parte di lama avrei potuto farlo benissimo magari con un coltello e quindi evitare di rovinare diciamo questa parte di lama ma comunque l'acciarino è giusto che funzioni che sarà per fare la scintilla e comunque fa sempre un po' diciamo un oggetto vissuto quindi non è male andiamo a vedere insieme soltanto due dati tecnici innanzitutto il peso allora abbiamo un peso di 65 grammi leggero quindi il sacchettino un attimo che andiamo a rimisurare allora 73 56 grammi prima aveva pesato in modo errato quindi un peso contenuto di 56 grammi mentre le misure sono di circa 12 no 11 abbondante 11 e mezzo oserei dire per l'acciarino la parte della pietra focaia e di 7 centimetri abbondanti e la parte lama è di 8 centimetri da notare che inoltre può essere utilizzato anche per aprire appunto una birra una bottiglia quindi non è male anche in questo caso se vi è piaciuto il prodotto vi lascio come sempre il link in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate e rispondo sempre a tutte le domande